Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. e per tutti. E io penso che questo interesse, perché tutti si liberano diversi parti del mondo e diverse culture, e diversi esperti più informativi. E penso che poi, se vuoi interesse per me, per chi è stato, o molto grande a mezzo, quindi faccio il... Per io, via, esperto, e via vivo nell'informativo, io episodio, io... che io quasi salvo. Se io e moris, che io mettero la conti scatta di un mondo, e non voglio. Per... Per sia esperto, o per volivetti, che io venivo, tra Svislando, al Cungalio, in un molto facile momento, io tutti mi ricordo, perché io non ho pensato a me, che in i miei versi, io non ho anche per te, nella storia del mondo, almeno in le mie lingue, le lingue che io non conosco, che dove mi si vuole per te. Cioè, questo interesse a me, e io posso essere un buon esempio per voi, perché voi tutte, tutti voi eletti, vi ripenso, uno a tempo, che io vi davo l'idea che non voglio venire a me, anche all'esterno, a classe, in questa società, e io posso dire, mi davo un'idea per vedere ciò che ci fosse buono, e io posso discutere anche a me, più che ci fosse scontentare. E' il risultato. Cioè, l'eserzo per voi, è usare il concetto in cui noi lerniamo di te. Per esempio, la definizione della metafora, che noi usiamo. Ciò, la computazione, in via, l'anedotto, questi varmi, o meno varmi, comunicazioni, questo è la idea. C'è un'idea? C'è un'idea? C'è un'idea? nonıyor gente per il la lingua della città, Piteniamo su, non lavorano su mobile a fare sempre anche a piccessarRI. No, non vuoi cosa? さいmo gotta prendere? C'è un'idea è lei. C'è il DA del materiale quindi è un' contemporary perché rigola ciò però di farti. Ciò le da basketball Committee apprezzgerate dopo il regno perché non errò di farばarsi in poi se mi spogli sempre. Tio essi leggeri in meno. Tio essi leggeri in meno, ciò che mi havo stiguto, poi mi scrivono il tutto quello che mi permette di confetti in esplodori perché non è necessità di scegliere informazioni. E' resa che mi havo in esplodori. Mi stessi posolosi di più a 100% della tua laborazione, anche se ti usate per il mio lavoro esempio chiun daiavi usate per il mio lavoro? ebbene dic chi ci dice? risponde la tua domanda in quinto pagina punto fino ti sei esperto e ti sei esperto? buona ebbene per vi è tutto banale se per me non perchè mi doggiasi in l'Irlando e havas la Lian con un giù? giù buon giù vi consenti fare Dio? sì quindi penso per Dio bene, grazie per la chiam ogni dono a me mine zias mi beble post la prendempo questo non è io credo che mi la temo mi vuoi si la temo in generale non ho capito mi bello che mi esistono che mi diranno c'è questa buona mi ha fatto un bucino un minuto quindi non è necessario non è necessario un grande lavoro per questo e dopo mi pensiamo una settimana dopo 10 1 febbraio non è necessario risulta di non è necessario non è necessario non è necessario che mi pensavo che non è necessario non è necessario di Grazie a tutti. 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 , 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 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e poste igias algoritmus, ciò igias ege poste, ciò ogni confundas logaritmoi cur algoritmoi, che do ogni tutte fuce comenzis scribi algoritmo anstratavos algoritmo, e proti ogni usas algoritmo non. Tiesa sta deveno della volta algoritmo. E non vistiasi ancora tiò. Certo? Ehm... Yes. Chiar tiò esis grava, ciò ogni volas avere certan metodon per aiutiri concluboi. Tiesa l'algoritmo. Chiar dìvi volas avere certan metodon per pulire buoni spaghettoi, vi seguas la ricetta. Exacte la sanna. Se vi fate tutti i azardi, ebbene, se ciam la sanna buona, tammen sufficio buona. ciò che tiò esis da sanna per alcuni. No, non mi devassa Changi Latemo. Changi Latemo. Dividis. Matematico. Dividis. Biometrio. Per euro. Ok. Ok. La mia foto. l'informatico. E' informatico. E' stato unico. Io sa'go se inifas che citi esas multai a lei edatadow che non mi vedas, C'è una nuova schemi della tutta di quale è abitivo. Uno francese è matematico tra la geometria greca e la geometria, e l'arabe in Giebroni dice l'arabe per gli europei. Se dice che non è vero, l'arabe è tanto. Questo è tutto dell'unità parte del mondo. Il mondo, che è l'aria, l'aria matrizio di informatico, è logico. Certo, non evitiamo logico dell'aristoteno al nullo, un grande tempo, perché non è accaduto molto in effettivo. Se i filosofi parlano con me, Charly Galichos, che è rapido di Aristotelo, se mi può sconsideri che l'aula franco, l'aula 21, di miei zeloi, e la mia figura è stissima. Non ti è grave a chi è per il coraglio. Di Paolo. Ci sono due minuti, due, tre. Ah, buone, buone. Ci sono due minuti, e io sono due minuti, e io ho fatto un'aristotica. E io ho fatto un'aristotica, e io ho fatto un'aristotica. E io ho fatto un'aristotica, da l'amstrata parte del computatore. E io ho fatto un'aristotica. Se mi voglia, io ho fatto un'aristotica. E io ho fatto un'aristotica. La storia del abatto e dell'altro è la storia del alfaro. La storia del logico e del formaggio della lingua è la storia del software. E io ho fatto un'aristotica. e il computico. Io ho fatto un'aristotica. E io ho fatto un'aristotica. E io ho fatto un'aristotica. Chuchi buona? Buona. No. Aristotelo. E questa è la preigrava greca filosofo. e una scritta. Una compla di tono. Un'aristotica verificio comprenibile e, in allora, un'aristotica effettiva logica è l'aborto della greca logos, lo dico, è derivato di logos, derivato di logos, e l'istrumento per logicumi non è già il logismo. Aristotela logico è usata e della greco tra la rumia e poco e la tutta mese poco. Do, grande, molto da tempo, esist eget influa e l'Europa pensi maniero. Nel vidio due esempi di silogismo prefamai, almeno la lingua. Una è stata la più fama di silogismo del mondo e a base una a certo e la mia a certo è vero, vero a certo perché è tutta travi deboli, vero a certo due a certo sobrato estas un sulla linea vi è tirato un crudone sobrato estas morotideva la unua a certo non mi chas li grava premiso la unua a certo non mi chas man li grava premiso e dodo il mago che la cristana teologio ci sta tutta tra la tutta messe poco usa stiui che un maniero risonante alia ad esempio del silogismo tipo avassati odo allia traito perdono la più grava premiso estes generala chi ha ci ha in avas citi un po' chiui chi resta mal generala ci ha che stas nur un unura speciala individuo ento perché io questo è uno spezzo del silogismo un generale e speciale se vi post anche avvi alia un spezzo da silogismo e chi vi avass amba un generale esempio ci vi elefanto estas mamuloi ciui mamuloi estas vertebruloi compudò ciui elefanto e estas vertebruloi chi ocasi friggato ti havas citie muloi famuloi la proprenza della subietto nella mal più grava premissa e logica che metodo permessa all'inizio algebre prodotti che e ti ricompludo in questa maniera vi potete vedere che vi potete cambiare la speciale esempio che la metoda è generale abstracta ti un metodo non i jas class calculo class class quindi havas la class le cib elefanto la class le cib i mamuloi li povas consideri la class san kie paro mago li havas tivo la class esempio del pomoio peci tie estas soprano dopo vi povas au consideri generale la class au consideri un un uran spezialan membron della class men kiu estas la manier vi povas ancao ansta tau havi kiu vini e pardonu dopo kiu vini povas ansta tuvi se existas ancao ali exemploi menul por ciui se ancao per vortoi che til que Só ciuo l'make digu aliasi logisma operatoroi Questa è la logica operatora. Se vi considerate a tutta la classe o qualche, uno significa questa speciale caso di qualche. Questa è un'utri o un'enio, se vi ne considerate anche un'occhio di qualsiasi. Questa è un'esplosione che ha fatto. La fotografia non ha dato la giusta impresa. E' la scuola di Eden, P. Raffaele Sanzio, 1.7. Questa è la fama, l'entrazione dell'Europa storia. E ora, cosa è successo? Ora, successo è successo, non è nio, fino a fine del mese. E' un'esplosione che non è niente. 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 è calcolato in l'Europa cultura, già da tutta il mese popolo. E' un'esplosione che non è niente. E' un'esplosione che non è niente. è un'esplosione che non è niente. E' un'esplosione che non è niente. Questo è sufficiente di raccogliere. Il più classifico dell'alto è che spiega grava. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La matematica è l'alto, e l'unico è l'alto. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 vi povas e quindi mi scriviamo questo è più facile Nell'etero po' all'etero po' vi havas floroi prensicoi cari dell'etero lo all'etero po' vi havas brancio la definita la metafora è la arbo con arbo si arbo c'è il arbo in cui la randico è la più grave e la brancio è la specializzazione della scele in men c'è l'exemple io tiè mi havas do i tero do se mi fa da o c'è l'exemple contra o c'è l'exemple c'è l'exemple c'è l'exemple po' c'è il brancio in mangu pari argon combina la flor con la brancio c'è l'exemple 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 per la storia c'è l'exemple Do in conoscenza E la c'è l'exemple è così grave ilotasti di di combination del di Medical bung della app della semina che è matata la sinogismo non avevo combinato. In combinato, dovevo provare le reti, dovevo mettere cuboni, quindi potremmo mettere cuboni e prendere chiunque da raggiungo che avevo, mettere le cuboni, tornare le ruote, ciò non potremmo fare con persilogismi. E questo è la nuova. E questo vero molto fuori nella moderna epoca, post-mese epoce, dovevo studiare nulla e provocare le reti, ed è effettivo in questo caso, e noi vediamo in questo modo. Da lì il fatto ed è grave, questo vero è un meccanismo. Questo è un meccanismo in maniera di resonare. Vi devi solo seguire le regole, e non devi pensare. Vi devi solo seguire le regole, che hai l'algoritmo per combinare, pseudo, base o algoritmo, che devi solo seguire le regole. E per nulla, nulla è un'unica, un'unica in tutto il mondo, che propone questa idea, e che la pensi maniera di un'unica, un'unica in maniera di un'unica, è esprimabile per meccaniche e rimedori. Questo è il vero grave affetto, dove la meccanica della penso. meccanica della penso. di questa maniera vi potete controllare, se io resono è giusta o mal giusta, perchè mi aveva meccanica del sistema per controllo. e questo meccanica funziona per l'angoritmo, che non mi vedo, io metto, chi mi è chiaro da voi. Questo è l'eccanica dell'artefalente intelligenza. effettiva. La mia idea, prima di fare l'intelligenza, non è nulla. Per me è poco. il fatto che ogni cosa può avere meccaniche per l'unica, non è più. Per me è comprensibile, è che il problema di più, il problema di classificato, dove ci sono gli elementi della rada, gli elementi delle arbre, dove non vogliamo dire che nulla non è sicura per ciò, e in due versioni cambia i nomi, cambia i numeri, che non è grave a me, inizia che c'è un problema, noi stiamo vedendo. In generale, posso dire che il problema di classificato ha due flanche. Uno è un'universalità, se voi leggere la base del concetto in quale potete controllare che tutti sono universali, infatti voi non potete, e la via è una robustezza. Il mondo è cambiato tra il tempo, e voi non siate come almeno un nuovo concetto, e voi dovete tenere in via conare, in via silenziare, in via mento e di antologia, in quale potete fare se avete o non. Vi faccio un esempio per comprensibile. e voi non potete In quel momento è che ci sono in via, 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 all' opticio, oAnda Semina. E poi si viene a quella un corredore della verdagio, e poi viene a sapere che c'è un nuovo frutto che mi ha visto. E io sono esperto, mi ha visto frutto che non mi ha visto. E se mi è visto, mi deve decidere chi è, e mettere in un'idea la giusta bretta. Se mi pensi orientare i frutti nel corredore della verdagio, mi avrei voluto orientare i frutti. Se mi pensi andavo, mi devi cambiare il corredore, per esempio, dove devi cambiare la bretta, che costa molto. Il problema è che mi devi, a priori, anticipare, pensare che mi potrei accassare in tutto il cambiamento. Questo è il problema della robustezza e dell'universalità. Questo è chiaro. Questo è molto grave. Cioè, non è solo un affetto per nulla, ma spero che noi ci siamo e ci siamo rincontano. Abbiamo liberati bretta. Esatto. Abbiamo liberati bretta. Molta, molta flanca, ogni tutto è semplice, ma prezise. Solvano. Uno, due, tre, quattro. Vino, andiamo a fare. Molto. Questa è un buio, non? Se mi devi distinio. Mi dici, sì, mi hava un esempio di cui mi devi guardare i miei dossierui nel mio computatore, in le dossierui. E poi mi devi dire, sì, mi hava un più lavoro, un più libero tempo, un più rifamilio. E poi, se mi hava sempre per i miei. E poi mi viene andando a pensare. E poi non voglio ricordare tutto. E poi, quando lo facciamo, creiamo un nuovo problema. E questa è la più elegante maniera di risolvere questo problema. Ma questo problema vero è grave. E noi vediamo alcuni problemi. E, secondo me, l'interesse di tutto questo è che se noi sappiamo C'è una maniera che i miei pensieri in i tempi, in i moderni tempi, solvano questo. E poi, noi possiamo avere nuove idee per solvare nulla e brutta. E poi, questa è la parola. C'è una parola di risoluzione. Bene, penso che noi possiamo finire qui. E poi, morgo, in i dos, in questo caso, per la prima nascita. Grazie.